Allora, buongiorno a tutti nuovamente. Spero che il laboratorio di ieri sia andato bene, che quindi abbiate risolto i vostri problemi. Era un laboratorio abbastanza semplice da un punto di vista di linguaggio, ma essendo il primo serviva un po' per prendere familiarità con gli strumenti, con le modalità, eccetera. Legato a questo laboratorio, cosa avverrà successivamente? Allora, siete invitati a effettuare un commit di quello che avete fatto, se non l'avete già fatto, e eventualmente se volete andare a modificare quanto avete già scritto nei prossimi giorni, indicativamente se effettuate un commit entro lunedì, quindi diciamo lunedì notte, avrete la possibilità di ricevere il risultato dei test che sono stati eseguiti sul vostro programma. Come già detto, gli esercizi di laboratorio sono testati, ma non sono valutati, quindi non ci sono punti addizionali o altri vincoli legati al voto finale dell'esame, ma ovviamente, come potete facilmente comprendere, il fatto che l'esame sia sostanzialmente analogo a questi esercizi di laboratorio, avrete grossi vantaggi a svolgere i laboratori ed eseguirli regolarmente. I test eseguiti saranno simili a quelli di InExample App, ragionevolmente sono analoghi, sono un pochettino più dettagliati rispetto all'app di esempio che viene utilizzata come linea guida, quindi sono più dettagliati rispetto a quello che c'è nell'Example App e utilizzano la libreria JUnit, libreria che vedremo nella lezione di lunedì prossimo. E quindi diciamo che lunedì mattina vedremo come funziona JUnit nel dettaglio e la mattina dopo, quindi o lunedì notte o martedì mattina, dipende quando riesco, riceverete via mail l'esito dei test e ovviamente il link a un file che potrete utilizzare per eseguire i test, un file coi test, che potete utilizzare sui vostri PC per rieseguire i test, quindi ovviamente modificare quello che avete fatto e rieseguire i test in modo che essere sicuri di ottenere il risultato. Domanda, è un problema se abbiamo modificato l'Example App? Tendenzialmente no, vi è data come linea guida per capire che cosa ci si aspetta dal codice che dovete scrivere, quindi è assolutamente legittimo andare a modificare l'Example App, ad esempio per aggiungere dei casi che sono descritti nei requisiti, ma non sono esplicitamente esercitati dall'Example App. I test saranno qualcosa di scorrelato e che viene dato come un pacchetto separato, verrà dato un file jar con dentro i test e quindi è un blocchetto, insomma un pacchetto separato e quindi tendenzialmente non si confonde con gli altri e quindi potete fare ovviamente tutte le modifiche che volete a Example App. Domanda, ho modificato un tipo di ritorno da string a string buffer può causare un problema? Sicuramente causa un problema con i test. I metodi dati come nel progetto di partenza devono essere mantenuti in termini di visibilità, tipo di ritorno e tipo di parametri. Se modificate quelli ovviamente il test cerca di chiamare un metodo però quel metodo lì non esiste e quindi ovviamente il test fallisce. Quindi dovete rimettere il tipo di ritorno. Attenzione, nulla vieta di adesso non so se questo è il caso ma giusto per darvi un'idea nulla vieta di creare un altro metodo che ha esattamente lo stesso nome di quello che vi viene fornito come punto di partenza che ha magari dei parametri di tipi di ritorno diversi e utilizzare quello internamente. Per la libreria JUnit allora quando parleremo di JUnit vediamo come fare. Era già impostata nel progetto di partenza in modo che poi avreste meno problemi dopo ma comunque lunedì nella lezione di lunedì in cui vedremo come gestire come si scrivono i test in JUnit e come si eseguono vedremo anche i dettagli di come impostare la libreria velocemente quando uno va su un progetto si fa un clic destro in Build Path può fare Add Libraries e poi aggiungere JUnit 4 vedremo ci sono tante versioni diverse di JUnit attualmente disponibili quella che noi utilizziamo in questo corso è la versione 4 che non è l'ultimissima ma è probabilmente una delle più diffuse in questo momento. prossimamente magari passeremo alla 5 però per il momento in questo corso questo anno accademico la versione JUnit di riferimento è la 4 altro dettaglio i test verranno eseguiti non all'interno di Eclipse ma verranno eseguiti in una macchina virtuale che ha installato una versione di Unix di Ubuntu in particolare che è diversa da quella che c'è qui quindi la JDK è sostanzialmente quella di riferimento potrebbero esserci qualche delle differenze ok quindi attenzione a quello che fate piccoli dettagli che cerco di raccontarvi legati al laboratorio all'interno del allora stavo cercando un eccolo qua l'esempio che la volta scorsa non vi ho menzionato ma un po' per mancanza di tempo vedete che qui centro vaccinale più vicino io non ho scritto più vicino ho scritto più vicino ok voi potete anche utilizzare le lettere accentate ok avrei voluto scrivere qua più più e qui sotto ancora più con la U accentata è legittimo java vi permette di utilizzare anche caratteri che non siano quelli diciamo standard aschi il risultato è che però se voi cambiate sistema operativo e chi utilizza magari un set di caratteri diverso potrebbe succedere che il compilatore riconosca quello non come un carattere lettera accentata U ma come un carattere non valido questo succede molto spesso adesso oggi parleremo un po' stringhe e vedremo qual è la causa quindi in generale la mia raccomandazione è evitate di utilizzare lettere accentate utilizzate il set di caratteri normale minimale senza lettere accentate altrimenti il rischio che il test fallisca ma non perché fallisce il test perché probabilmente non si riesce neanche a compilare il progetto quindi questo è una tentazione che ogni tanto viene soprattutto se usiamo dei nomi italiani di utilizzare degli accenti ecco evitatelo perché andate incontro a dei problemi che poi sono difficili da diagnosticare quindi manteniamo il nostro nome non accentato in modo da garantire che questo codice sia compilabile anche su piattaforme diverse domanda ho cambiato il nome del progetto del repo non verrà testato con un nome diverso il test è automatico e sostanzialmente va a cercare nel repo un progetto che ha quel nome specifico cioè il nome del progetto che viene dato e andrà a utilizzare quello quindi sostanzialmente non troverà il progetto lo salterà e non eseguerà il test semplicemente ok altre domande o dubbi chiarimenti sul laboratorio di ieri o sui laboratori in generale allora domanda non mi sono occupato della visibilità allora in questo in questo esercizio in questo primo laboratorio sostanzialmente la visibilità non era particolarmente importante quindi era più importante soprattutto iniziare a costruire il progetto in modo che si insomma capissero i concetti fondamentali soprattutto se imparasse a utilizzare lo strumento fondamentale che è Eclipse in generale la raccomandazione è dopo che uno è riuscito a costruire il progetto con le funzionalità prestare un po' di attenzione a quelli che sono gli aspetti di visibilità e quindi restringere il più possibile la visibilità però non è sicuramente un aspetto importante in questo caso ovvio che se c'era un metodo pubblico e l'avete messo privato ecco questo può portare dei problemi anche nei test però se avete messo tendenzialmente tutto con visibilità più ampia del necessario questo sicuramente in questo momento non è un problema allora domanda se facciamo il commit entro lunedì i test non possiamo farli allora no in realtà se fate il commit entro lunedì i test vengono eseguiti automaticamente e vi vengono mandati gli esiti i test però sono pubblicamente disponibili e quindi poi potete scaricarli ed eseguirli sul vostro pc in maniera autonoma ok l'esecuzione automatica dei test è pensata per andare a simulare quello che succede nel caso dell'esame dove sostanzialmente nel giorno o diciamo al massimo nel giorno successivo all'esame vengono eseguiti automaticamente i test e vi vengono inviati e quindi è per ripetere la modalità che poi troverete durante l'esame però ovviamente i test li potete scaricare ed eseguire voi in maniera autonoma quindi non preclude il fatto di non fare il commit la possibilità di eseguire comunque autonomamente i test come si elimina un progetto dal repository è una cosa complicata torneremo su questi argomenti quando vedremo l'uso dei sistemi di controllo delle versioni e vedremo un attimo come è possibile fare operazioni un po' più complesse per il momento vi tenete i repository che ci sono le cartelle quello che allora problemi di out of date dovrei vedere nel dettaglio è possibile che allora un'ipotesi è che ci sia qualche al designamento della data del server con il vostro pc questo potrebbe essere non ho controllato mi viene in mente adesso farò un controllo sicuramente dopo ho visto nei messaggi sul canale dei laboratori che qualcuno aveva problemi perché diceva che il sistema è il scusate il sistema i file erano il repository locale era locato quindi è possibile che magari avete utilizzato più sistemi di più plug-in subversion oppure avete usato contemporaneamente il plug-in di Eclipse più un client subversion esterno tipo tortoise tipo tortoise questi sono dei casi possibili l'altra cosa che volete fare è andare a vedere sul repository la data del file e confrontarla con la data del file che avete in locale questo potrebbe essere un il primo passo per diagnosticare il problema in generale se avete problemi con i commit una cosa che potete fare molto semplice che spesso risolve il problema è andando a scegliere il progetto fare un team e poi un refresh clean up questo sostanzialmente cancella tutte le cose in sospeso e ripristina un po' la copia locale dei vostri file e quindi a volte risolve non sempre però diciamo che la prima cosa molto veloce da fare è per provare domanda ho scaricato l'esempio vaccini ci sono dei package annidati e una cosa che possiamo fare anche noi allora vaccini è questo qua in SRC c'è il tipo lito più vaccinazione allora non è un non sono dei package annidati ma bensì è un package che si chiama così e che Java realizza andando a creare delle cartelle annidate una dentro l'altra se io creassi un package che si chiama it polito ok quindi con i primi due elementi del nome del package questo mi creerebbe una cartella it e al suo interno una cartella polito dentro quella cartella polito c'è anche una cartella che si chiama po e al cui interno c'è una cartella che si chiama vaccinazione il fatto che le cartelle siano annidate però non mi dice nulla sui package i package hanno dei nomi diversi e non sono correlati tra di loro quindi non ci sono regole di visibilità particolari o altro ok sono package distinti anche se hanno dei nomi che hanno uno il prefisso di uno è uguale al nome dell'altro ok questa coincidenza di prefissi non ha nessun significato in java sul file system sostanzialmente corrisponde a cartelle annidate per cui lo potete tranquillamente fare è una pratica normale sappiate che il fatto che i package abbiano dei nomi simili comporta che le cartelle sul file system sono annidate ma null'altro in termini di linguaggio come se annulla l'ultima modifica su Eclipse allora immagino tutti riferisca ai commit perché altrimenti ctrl z o command z è quello che funziona nell'editor e non è lineare quello che potete fare è operazione molto molto semplice prendete il vostro progetto fate un team update to version e andate a selezionare la versione di quelle che ci sono su repository in cui precedente a quella di cui avete appena fatto il commit o anche precedente molto precedente quella che preferite quella che vi interessa andare a ripristinare a questo punto cosa succede che nel vostro progetto vi ritrovate sostanzialmente riportati indietro nel tempo al momento in cui avete fatto quel commit non c'è un modo semplice di dire soprattutto con l'interfaccia di eclipse di andare a recuperare quelle quello c'è un revert ma non sempre funziona ok non funziona esattamente nel modo in cui ci immaginiamo quindi la mia raccomandazione è fate un update alla versione precedente prendete il file che volete ripristinare o la cui versione precedente volete andare a ripristinare gli cambiate nome ad esempio lo chiamate underscore vecchio dopodiché tornate alla versione attuale quindi update to add quindi ripristinate in locale l'ultima versione che c'è sul repository a questo punto prendete il vostro vecchio file e lo mettete al posto di quello nuovo potete fare un copia e incolla di editor potete semplicemente cancellare quello nuovo e rinominare quello vecchio in questo modo avete ripristinato la vecchia versione domanda è saltata la corrente è successo anche a me mezz'ora fa fortuna non adesso sì se se una domanda specifica sul programma se è generica nel senso che può interessare ad altri sì se invece una domanda molto specifica su quello che hai fatto magari falla su Slack una domanda generica sì un'altra domanda Ok, non vedo altre domande. Allora, io martedì vi ho pubblicato una lezione, ma non l'ho, assincrona, ma non l'ho pubblicizzata più di tanto su Slack, anche perché non volevo che vi soffronesse troppo con l'attività di laboratorio di ieri. Per cui l'obiettivo di oggi è, immaginando di aver esaurito i dubbi sul laboratorio, ma comunque se ci sono possiamo tornarci, e di riepilogare velocemente la parte di lezione che riguarda metodi attributi statici. E vedere qualche esempio nel nostro caso particolare. Ok, a questo punto parliamo di metodi attributi statici. Abbiamo già visto nella pratica, ad esempio, il main, che è statico, abbiamo visto le costanti. A questo punto vorrei farvi un quadro un pochettino più completo e coerente di come viene utilizzato l'attributo statico. Ci sono gli attributi statici che vi sconsiglio di utilizzare se non sapete esattamente cosa state facendo. Quindi per il momento di salto. Ci torniamo poi dopo andando a vedere quali sono gli aspetti negativi. quando io utilizzo la parola chiave static, le parole chiave messe prima di un attributo di solito vengono chiamate modificatori. Quindi ad esempio public o private sono dei modificatori, static è un modificatore, final è un altro modificatore. indicano che quel particolare elemento, metodo attributo, non è legato a un particolare oggetto. Quindi è comune, condiviso dalla classe. Cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, che quel metodo non potrà accedere a uno degli attributi perché non fa riferimento ad un oggetto specifico. Se io metto il nome di un attributo o utilizzo il dis, a quale oggetto sta facendo riferimento? Quindi il dis dentro questi metodi statici non è definito, ok? Perché sono slegati da particolari oggetti, sono comuni alla classe. Come faccio a utilizzare i metodi statici? Beh, utilizzo il nome della classe. L'abbiamo visto con i tipi wrapper. Se io voglio convertire una stringa in un intero, faccio integer, nome della classe, punto, parseInt, che è il nome del metodo statico. A cosa servono in generale i metodi statici? Abbiamo visto un po' di esempi, ma tanto per riepilogare, ci permettono di andare a definire quelle che possiamo chiamare delle funzioni. Che cos'è una funzione? Una funzione è un metodo che, il cui risultato dipende esclusivamente dai parametri e da nient'altro. I metodi che abbiamo visto normalmente, finora, dipendono sì dai parametri, ma anche dal valore degli attributi dell'oggetto su cui vengono invocati. Mentre invece le funzioni non dipendono da nulla. Un'altra possibilità è quella di andare a utilizzare questi metodi per creare degli oggetti, utilizzando quelli che si chiamano dei factory method. Quindi, se io ho bisogno di una funzione, quindi un qualcosa che non dipende da uno stato precedente dell'oggetto, quello che faccio normalmente è andare a dichiarare quel metodo come un metodo statico. Cosa faccio poi? Normalmente, per una questione di pulizia e di ordine, vado a raggruppare tanti metodi statici che rappresentano delle funzioni all'interno di classi che semplicemente sono dei contenitori di questi metodi statici. Queste classi vengono chiamate classi di utilità o utility class. Non sono classi che sono pensate per essere istanziate, per andare a descrivere la struttura di un oggetto, ma sono classi che semplicemente definiscono un contesto in cui andare a definire una serie di metodi statici. Ci sono funzioni anche all'interno di metodi wrapper. Ecco, i metodi wrapper non sono delle semplici classi di utilità perché sono pensati anche per essere istanziati. Fanno anche il ruolo di classi di utilità nel senso che raccolgono tutti i metodi statici, tutte le funzioni specifiche per un particolare tipo di dato. Domanda, può vero senso creare una funzione statica a cui passo due oggetti della stessa classe che mi dice se gli oggetti, quindi non i riferimenti, sono gli stessi? Sì, ad esempio, fare una... Allora, piccola parentesi, di solito non si fa così, nel senso che Java utilizza un altro approccio, però se voglio prendere due oggetti, confrontarli, o fare il merge o la somma o quello che volete, ecco, in quel caso il risultato dipende esclusivamente dai parametri e quindi è ragionevole che quel metodo sia un metodo statico. Vedremo perché non si fa così quando parleremo di ereditarietà, quindi, diciamo, della settimana prossima. Però ha senso pensare a questo modo di... Domanda, un metodo static può accedere agli attributi static? Sì, allora, non può accedere agli attributi, diciamo, di oggetto, degli oggetti, ma può accedere ovviamente agli attributi statici perché questi sono slegati da qualunque oggetto e quindi sì. alcuni esempi di classi di utilità. System, abbiamo visto, abbiamo già utilizzato System perché contiene ad esempio un oggetto che si chiama Out che serve per stampare. Esiste una classe di utilità che si chiama Math che contiene un po' di funzioni matematiche e simili. Esiste una classe che si chiama Arrays che abbiamo già visto e che contiene dei metodi che permettono di andare ad operare sugli Array. C'è il metodo di ordinamento, c'è il metodo di riempimento, c'è il metodo che va a copiare un Array, eccetera. Esiste anche una classe che si chiama Objects che ha alcune funzioni che operano sugli oggetti. Giusto per darvi alcuni esempi. Ad esempio nella classe Math troviamo tutte le funzioni matematiche, quindi le funzioni trigonometriche, le funzioni per calcolare minimo e massimo, le funzioni per calcolare esponenziali e logaritmi, le funzioni di troncamento, di arrotondamento, una funzione che serve per generare numeri casuali, eccetera. Quindi, se avete bisogno di quelle funzioni, sono raccolte all'interno della classe che si chiama Math. Abbiamo visto la classe Array che permette di fare una ricerca binaria, quindi sostanzialmente se io ho un Array ordinato, invece di andare a scandire gli elementi dalla cima al fondo, faccio una ricerca dicotomica. Quindi vado a vedere l'elemento mediano e se quello che sto cercando è minore o maggiore, vado a cercarlo nella metà precedente o successiva all'elemento mediano, eccetera. non vi sto a raccontare l'algoritmo perché insomma è abbastanza noto. Queste classi sono da importare, sì. A parte System che già fa parte del package che si chiama Java.lang che è importato automaticamente, Arrays, ad esempio, l'abbiamo dovuto importare, sì. Abbiamo le copie, abbiamo metodi che permettono di andare a fare un controllo di uguaglianza tra due Array, ecco qui, rispetto alla domanda di prima, c'è un metodo equals che prende due Array e va a vedere se effettivamente sono uguali gli elementi. Fillin, quindi ho un metodo fill che mi permette di andare a riempire un Array, sort che mi ordina gli elementi di un Array e string che mi permette di convertire in stringa un Array. Static Final direi che possono essere invertiti, non c'è un ordine specifico, quindi le parole chiave statica e final possono essere scambiate. sono come dei flag che vanno a cambiare il tipo di membro che segue, quindi l'ordine tendenzialmente non cambia. Per quanto riguarda la classe System, abbiamo ad esempio un metodo che si chiama CurrentTimeMillis che va a restituire il tempo di sistema. C'è un'altra variante che si chiama Nanotime che restituisce il tempo di sistema in nanosecondi. E c'è il metodo Exit che permette di terminare l'esecuzione di un programma. Ve lo menziono adesso molto velocemente ma è un metodo che non si utilizza in Java, nel senso che il programma termina quando termina il metodo Main. Il metodo Exit si usa in casi molto molto eccezionali. La mia raccomandazione è non utilizzate almeno per gli esercizi di questo corso il metodo Exit perché semplicemente perché i test vengono eseguiti all'interno di una Java Virtual Machine. Se voi chiamate il metodo Exit la Java Virtual Machine termina e quindi termina anche l'esecuzione di tutti i test. Quindi tendenzialmente Exit è l'ultima risorsa che io utilizzo per terminare un programma in condizioni molto molto particolari. Dentro System esiste un oggetto che si chiama statico che si chiama Out che è di tipo PrintStream e che è una classe che definisce ad esempio il metodo PrintLN che abbiamo utilizzato abbastanza domanda se System viene automaticamente importato perché scriviamo sempre System.out perché Out è un oggetto un attributo statico della classe System e quindi devo per fare riferimento all'oggetto Out di System utilizzare il nome della classe punto il nome dell'elemento. Quindi è sconsigliabile fare uscite non strutturate come in C? Sì decisamente sconsigliabile e poi ci sono dei casi particolari in contesti reali in cui effettivamente faccio un exit. Domanda per le classi importate non basta scrivere il nome del metodo? No se importo una classe vedo la classe che potenzialmente si trova in un altro package ma anche se si trovasse nello stesso package avrei la necessità di utilizzare il nome della classe punto il nome dell'attributo o del metodo a meno che non faccia un import statico che è una cosa diversa domanda è sconsigliato di utilizzare break per uscire da un ciclo no break e continue sono costrutti strutturati quindi tendenzialmente no quello non è un problema domanda quindi system out println vuol dire che println sta in una classe annidata nella classe system allora attenzione non esattamente ve lo faccio ve lo torno su su eclipse così lo vediamo qui toccare una classe con un metodo main clicchiamo esempi statici ok allora quando io scrivo system punto out punto println scusate println sto facendo system punto out sostanzialmente mi permette di accedere a l'oggetto l'attributo statico out che si trova dentro system ok è un po' come se io dentro questa classe esempi statici avessi un public static string titolo uguale esempi statici se io fossi in un'altra classe per accedere a questo attributo titolo dovrei andare a scrivere esempi statici punto titolo poi in realtà non sto facendo nulla ma string s uguale esempi statici punto titolo ok accedo a un oggetto un attributo statico che sta dentro una classe l'oggetto system punto out è un oggetto di tipo print stream quindi è un oggetto di un'altra classe esattamente come titolo un oggetto di classe string su cui io posso ovviamente invocare dei metodi quindi è un oggetto cioè scusate un riferimento un oggetto utilizzo quel riferimento per chiamare un metodo in particolare println e anche qui il titolo potrebbe andare a dire punto to uppercase esattamente chiamiamo un metodo il metodo println sull'oggetto out che è definito come statico all'interno della classe system devo sempre utilizzare il system anche se qui implicitamente c'è un import java punto lang punto asterisco ok sono state importate tutte le classi che si stanno in Java punto lang ovviamente qui mi dice l'import non è mai utilizzato perché in realtà tutti questi tutti questi classi sono già importati automaticamente e implicitamente ok quello che posso fare è fare in alternativa un altro tipo un altro tipo di import che è il seguente che si chiama static import che è import static java.lang.system punto ad esempio asterisco oppure posso fare su un qualche elemento qui mi dice che non è mai utilizzato ma a questo punto se utilizzo questo allora quello che posso fare quindi se ho con lo static import posso andare semplicemente a scrivere out punto print ln quindi out non devo più qualificarlo come out che sta dentro la classe system perché ho questo import static di tutti gli elementi statici che stanno dentro questa classe e a questo punto li vedo direttamente quasi come se fossero definiti in questa classe però attenzione è l'import static e non è l'import normale che è quello questo è implicito quindi implicitamente fatto dal compilatore se volete scrivere le cose più in maniera compatta sicuramente potete tranquillamente fare questo import static così evitate di scrivere system punto tutte le volte si è una comodità che potete sfruttare certamente un'altra cosa che potete fare è ad esempio andare a mettere public static void p ring s system out print ln s e scrivere semplicemente p che è molto più compatto vi faccio notare che questo metodo p l'ho definito statico perché di fatto è una funzione ok nel senso che dipende esclusivamente dal parametro che gli passo non da altri stati che ci siano dell'oggetto e quindi ragionevolmente l'ho dichiarato statico perché è una funzione si comporta come una funzione inoltre per essere chiamato dal main deve essere un metodo statico altrimenti avrei bisogno di un oggetto su cui chiamare il metodo p ok chiamandolo così lo chiamo perché sostanzialmente è come se scrivessi nome della classe punto che in questo caso non è necessario mettere perché mi trovo già dentro quella classe e quindi attenzione che io quando chiamo dei metodi all'interno del metodo main ragionevolmente o sono metodi che chiamo su un oggetto oppure devono essere metodi statici altro possibile motivo per andare a utilizzare i metodi statici è quello di andare a creare quelli che sono dei factory method ovvero dei metodi che mi permettono di creare degli oggetti avendo importato staticamente la libreria java lang attenzione torno un attimo l'import statico non è sulla libreria java lang ma è sugli elementi dell'oggetto della classe system quindi io posso importare staticamente non un package ma i metodi che stanno dentro una classe a questo punto una volta che ho fatto questo sì ovviamente il system lo posso mettere esattamente come l'ho messo qui sotto questo funziona soltanto se ho fatto l'import static ok influisce tanto utilizzare questo metodo di ridenominazione delle funzioni immagino che tu faccia riferimento a questo metodo p tendenzialmente poco nel senso che il compilatore è in grado di prendere il contenuto di quel metodo e sostituirlo praticamente qui dentro e quindi l'ottimizzazione del compilatore di solito mi annulla la chiamata a funzione ok torno sui factory method sono delle funzioni particolari che mi permettono di andare a creare dei nuovi oggetti cosa possono servire possono servire per restituire un oggetto che invece di essere creato è già stato creato precedentemente quindi ho un pool insieme di oggetti che già ho creato e vado a restituire quegli oggetti oppure se ne ho già creato uno vado a recuperare quello che ho creato precedentemente possono semplificare la creazione perché evito di utilizzare il new quindi è un po' più semplice e posso eventualmente mantenere una collezione di oggetti se io voglio sapere quanti oggetti sono stati creati immaginate di dover creare degli oggetti che corrispondono che so a un database o a delle risorse preziose voglio tenere sott'occhio quanti ne sono stati creati un altro modo è di andare a controllare come vengono creati gli oggetti ad esempio col pattern singleton di cui parliamo tra un attimo un esempio di factory method che di cui abbiamo accennato è quello del metodo value of che sta in integer quindi value of a partire da un int crea un oggetto integer e come abbiamo commentato qualche lezione fa sostanzialmente mantiene una cache di oggetti preallocati tra meno 128 e 127 per cui quando devo creare un oggetto che sta in quel range invece di creare l'oggetto restituisco quello già presente preallocato ok? molto più efficiente molto più efficiente in termini di tempo e anche di spazio perché evito di creare tanti oggetti di questo tipo il metodo value of sempre in integer mi permette di prendere una stringa analizzarla e creare l'oggetto integer corrispondente sostanzialmente chiamare value of è equivale a scrivere un new integer di integer appunto parsint di s quindi con un unico metodo scrivo integer appunto value of e quindi scrivo in una maniera più compatta quindi semplifico la creazione di oggetti quindi tendenzialmente ho la possibilità di andare a utilizzare questi metodi statici per permettere questo tipo di gestione un po' più semplificata della creazione degli oggetti domanda import statiche come dire using namespace penso di sì all'incirca con le due differenze perché import statiche funzionano a livello di classe quindi non è esattamente lo stesso forse è simile allora queste slide dovrebbero essere aggiornate dovrebbero essere state caricate ci sono alcune slide in più rispetto alla lezione ma queste dovrebbero essere sul sito se non ci sono magari fatemelo presente magari mi mandate un messaggio su slack in cui mi dite quale slide manca perché magari c'è stato qualche problema di aggiornamento pattern singleton che ho menzionato prima è sostanzialmente un modo standard di andare a gestire i casi in cui io per una classe voglio istanziare un unico oggetto può succedere per tanti motivi ad esempio voglio avere un unico oggetto globale in tutta la mia classe in tutto il mio programma in cui vado a memorizzare delle costanti globali e quindi posso andare a chiedere a quell'oggetto i valori delle costanti ovviamente magari sono costanti che io non ho note a priori quindi non posso andare a definire come final static ok sono magari delle costanti delle dati di configurazione che ho letto da un file all'inizio del programma e quindi non erano noti nel momento in cui ho compilato il programma ok quindi variabili globali che non conoscevo nel momento in cui ho compilato il programma che potrebbero essere varie potrebbero cambiare e quindi quello è un caso oppure voglio avere un'unica classe che gestisca la connessione al database per evitare di avere più connessioni contemporanee che possono interferire l'una con l'altra oppure ho una classe che mi permette di andare a interagire con un dispositivo esterno non so un sensore piuttosto che un attuatore un braccio robotico quello che volete è ovvio che vorrei avere un'unica classe un unico oggetto attraverso cui passano i comandi in modo che non ci siano più oggetti che cercano di dare comandi contrastanti contemporaneamente quindi ci sono moltissimi casi in cui io voglio avere un unico oggetto il problema è che se lascio la libertà ai miei utenti di gestire l'oggetto o la classe come vogliono ognuno farà la new e ovviamente mi ritrovo con più oggetti quindi quello che di solito si fa è di andare a utilizzare questo pattern quindi questa struttura tipica in cui il costruttore lo vediamo qua sotto il costruttore che normalmente è messo come privato ok private singleton aperta chiuso tonda questo vuol dire che non è possibile creare un oggetto se il costruttore è privato quell'oggetto non può essere un oggetto di quella classe non può essere creato tranne che dall'interno della classe stessa e quindi il metodo static get instance va a fare un new quindi è l'unico metodo perché è interno alla classe che può chiamare un costruttore e sostanzialmente cosa c'è? c'è un attributo statico instance che contiene l'unica istanza di questa classe se instance è nullo allora crea un nuovo oggetto e lo assegna e restituisce instance se invece instance è già stato creato semplicemente restituisce l'istanza quindi l'oggetto che è già stato creato e quindi garantisce che esista un unico oggetto di questa tipica classe se facessimo new singleton riceveremmo un messaggio d'errore esattamente quindi quindi ho un oggetto singleton all'interno della finizione della classe singleton allora ve lo riscrivo direttamente in il codice così lo vediamo e vediamo i dettagli vado qui e vi creo una nuova classe che chiamiamo per appunto singleton ho un private singleton aperta chiusa ma questo vuol dire che se io nella mia classe esempi statici provo a fare un singleton s uguale new singleton ho un errore che mi dice che il costruttore di singleton non è visibile e quindi non lo posso fare come posso crearlo lo posso creare con un public static new instance che fa riferimento a un private static instance ho messo il tipo che è singleton bene se instance è uguale nulla allora dico che instance è uguale a new singleton da qui lo riesco a fare perché trovandomi nella stessa classe riesco a farlo e poi faccio un return di instance più qui sotto tutti i metodi del singleton quindi per crearlo invece di utilizzare new devo andare devo andare a dire singleton s uguale a singleton punto new instance ok ah scusate ho sbagliato qua non ho messo il tipo di ritorno a questo punto deve essere a posto quindi riesco a farlo qua dentro instance attenzione non è un oggetto singleton dentro la classe singleton instance ricordiamoci lo è un riferimento quindi punta che cosa un oggetto che verrà creato quindi dentro la classe singleton metto un puntatore a un oggetto di questa classe è statico e quindi quel riferimento è unico e condiviso tra tutti gli oggetti della classe singleton che poi in realtà sarà solo uno per come lo forzo io questo è un costruttore che non fa nulla quindi aperta chiusa graffa qui dentro io non ho messo nulla ma ovviamente qui potrei mettere tutte le inizializzazioni necessarie ok e tutti i metodi del singleton ovviamente tendenzialmente non statici nel senso che una volta che ho il singleton l'oggetto singleton chiamo su quello degli oggetti dei metodi domanda new instance è statico giustamente perché altrimenti avrei il cane che si mangia la coda avrei bisogno di un oggetto per chiamare il metodo new instance però l'unico modo in cui posso creare un oggetto è new instance e quindi sarebbe impossibile creare un oggetto domanda che particolarità singleton è che con questa struttura io garantisco che è possibile istanziare un unico oggetto di questa classe altrimenti ne posso creare quanti voglio quindi questa struttura specifica quindi il costruttore privato l'attributo con il riferimento instance e il factory method questo si chiama factory method è un metodo che costruisce garantisce che sia impossibile creare oggetti se non utilizzando questo metodo e questo metodo garantisce che ce ne sia uno solo impossibilità di fare new singleton esattamente dato dal fatto che il costruttore è privato l'utilità concreta come vi dicevo prima c'è se io ho un oggetto che controlla delle risorse sono sicuro che quell'oggetto verrà creato una volta sola e non avrò più oggetti che possano interferire l'uno con l'altro caso tipico l'accesso a un database o accesso a risorse di sistema operativo e quindi questi sono i casi principali poi insomma e quindi ci sono dei casi in cui è utile avere un singleton qualcuno lo vedremo durante il corso ma il metodo new instance viene usato durante l'allocazione della memoria della classe no il metodo new instance viene chiamato quando un oggetto ha bisogno un metodo ha bisogno di un oggetto di questa classe per essere eseguito quindi l'allocazione dell'oggetto quindi il new singleton viene eseguito quando chiamo new instance per la prima volta ok è un modo standard di andare a garantire che ci sia un unico oggetto ed è anche il modo standard di creare l'unico oggetto quindi esattamente se chiamiamo new instance più volte otteniamo sempre lo stesso oggetto il punto e virgola alla fine del blocco private singleton evoluto no questo punto e virgola qua hai ragione non c'entra nulla quindi esattamente in applicazione Rai non lo chiamiamo singleton ma lo chiamiamo connessione database o l'esempio che c'era sulle slide si chiamava global directory global directory ovvero un qualcosa che permette di accedere a un insieme di nomi globali domanda ma è errato considerare instance come un attributo e beh instance è un attributo solo che è un attributo di tipo statico quindi ce n'è uno soltanto per tutti gli oggetti ce n'è una copia soltanto e posso accedere a instance ovviamente senza dover avere un oggetto di appoggio ok ricordatevi di salvare tutto perché altrimenti il rischio è che allora c'è un errore qui non riesco a capire dove non riesco a visualizzarlo hanno scusate gli esempi statici c'è un s perché l'ho già usato prima come variabile ok allora questo del singleton è uno dei pochi casi scusate qui è uno dei pochi casi in cui ha senso avere degli attributi statici altrimenti salvo le costanti che sono final static usare degli attributi statici è un qualcosa che può essere estremamente pericoloso perché vi dà dei risultati inattesi perché invece di avere un attributo specifico di ogni oggetto tutti gli oggetti condividono lo stesso attributo quindi la mia raccomandazione è visto che probabilmente non dovrete andare a implementare un singleton nei temi d'esame o negli esercizi che farete non ripeto non utilizzate attributi statici a meno che sappiate esattamente cosa state facendo domanda single.instance uguale a single sì se lo potessi scrivere perché instance è privato però sì concettualmente single.instance perché quando utilizzo un oggetto l'oggetto vede sempre lo stesso attributo statico è necessario mettere instance static e beh se non lo metto static devo avere un oggetto che lo ospita e quindi come fa a esistere prima di essere creato quindi la struttura degli oggetti che seguono questo pattern è questa ok qualsiasi variante vi porta a qualche problema che invece questa struttura risolve è l'idea che sta dietro il concetto di pattern esattamente c'è lo static evita di dover avere un oggetto static è un qualcosa di classe e non di oggetto fate attenzione che static in c ha un significato un po' diverso ok quindi non pensate al c perché è abbastanza diverso ok a questo punto direi che almeno su static abbiamo chiarito ripeto i metodi statici sono molto molto utili perché ci danno funzioni e sono utilizzati in tanti casi gli attributi statici sono un qualcosa da utilizzare con molta cautela ok esercizio da fare a casa nelle vaccinazioni l'esercizio che abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo parlato di cittadino e anche di centro vaccinale avevamo memorizzato l'indirizzo come una stringa pensate a come potreste utilizzare invece una classe indirizzo che abbia degli attributi non so città via numero civico cap e a come potreste utilizzare un metodo statico e eventualmente anche degli attributi statici con molta attenzione in modo da evitare di creare più oggetti indirizzo che fanno riferimento allo stesso indirizzo fisico ovvero se io vado a creare un nuovo oggetto indirizzo ma ne esiste già uno che ha esattamente lo stesso cap città via e numero allora cosa faccio invece di creare uno nuovo restituisco quello precedente come come fate il suggerimento è utilizzare un factory method ovvero un metodo statico che ha il compito di creare gli oggetti e prima di crearlo effettivamente va a controllare se ne esiste già uno con le caratteristiche di quello che starebbe per creare e restituire quello invece di creare uno nuovo ovviamente sì è possibile accedere a un attributo statico partendo da un oggetto quindi se io faccio oggetto punto attributo statico lo vedo esattamente come se fosse un attributo dell'oggetto ok l'idea è che gli attributi statici sono condivisi tra tutti gli oggetti ne esiste una sola copia invece di averne una per ogni oggetto però l'idea è sempre la stessa allora la domanda è come faccio a chiamare dall'esterno di una classe gli attributi della classe e la frase probabilmente ha qualche errore perché se sono fuori dalla classe non posso essere nella classe domanda lo stati dobbiamo utilizzarlo per elementi che rimangono costanti non necessariamente però attenzione che molto spesso gli attributi non sono specifici di tutti le classi ma sono specifici di tutti gli oggetti ma sono specifici sono specifici per gli oggetti non sono comuni a tutti gli oggetti scusate la confusione quindi static si usa con molta molta parsimonia ok c'è una domanda sullo stream pooling ma parleremo di stream pooling dopo una breve pausa io faccio le 11.25 quindi 10 minuti di pausa alle 11.35 riprendiamo a parlare di stringhe allora piccola panoramica su sulle stringhe sono sly che vi ho già pubblicato ma ci torno velocemente così eventualmente se ci sono dubbi o aspetti poco chiari vediamo di chiarirli subito perché le stringhe sono un elemento che verrà utilizzato tantissimo allora in java abbiamo due tipi principali che sono i caratteri delle stringhe i caratteri caratterizzati dai singoli apici e le stringhe dai doppi apici ovviamente ovviamente le stringhe sono sequenze di caratteri non sono array di caratteri come in c ma sono degli oggetti un po' più sofisticati abbiamo già visto che hanno delle caratteristiche diverse i tipi che abbiamo a disposizione per rappresentare le stringhe sostanzialmente riguardano char e caratter che sono il tipo primitivo e il tipo wrapper non abbiamo una rappresentazione primitiva per le stringhe ma abbiamo la classe string che è se volete un po' analoga a quanto avviene per le classi wrapper immutabile mentre invece c'è una classe che si chiama stringbuffer e una sua variante che si chiama stringbuilder che invece sono stringhe mutabili come vengono rappresentati i caratteri di conseguenza le stringhe in in java utilizzando una codifica che si chiama unicode codifica standard molto adottata non entro nel dettaglio di come funziona unicode soltanto alcuni elementi fondamentali che vi epilogo qui velocemente quali sono i concetti fondamentali allora i concetti fondamentali di unicode sono il concetto di carattere che è un'idea astratta per cui la lettera italiana la lettera minuscola dell'alfabeto latino i ok la descriviamo parole e sappiamo tutti a che cosa ci riferiamo associato a un carattere ovviamente abbiamo quelli che si chiamano i glifi ovvero la rappresentazione grafica del carattere ovviamente dato un carattere concetto astratto i glifi possono essere tantissimi perché cambia il tipo quello che di solito viene chiamato un font un font è una collezione di glifi che rappresentano un insieme di caratteri attenzione non tutti i font rappresentano tutti i possibili caratteri ok i font possono essere più o meno ampi all'interno dello stesso font poi abbiamo delle varianti per cui abbiamo non so l'italico il bold eccetera quindi l'idea fondamentale è che da un carattere io posso avere tanti glifi e di solito i glifi sono raggruppati in font come facciamo a rappresentare in maniera univoca caratteri di in termini di dati li rappresentiamo tramite quelli che si chiamano dei code point ovvero è un numero univoco che identifica un certo carattere quindi dato un carattere la L minuscola e la I maiuscola no sono due caratteri diversi non vedo come possono essere rappresentati con lo stesso codice quindi il codepoint è il numero univoco che lo standard di unicode associa a un particolare carattere dato quel codepoint utilizzando un particolare font posso ottenere il glifo corrispondente ovvero la rappresentazione grafica normalmente normalmente i codepoint vengono scritti come U più il valore esadecimale e questo è la rappresentazione standard dei codepoint ovviamente a U più 0069 corrisponde alla lettera minuscola I dell'alfabeto latino questo diciamo in generale poi abbiamo vari modi di andare a rappresentare i codepoint perché in realtà quello che dobbiamo andare a rappresentare è il valore numerico il codice all'interno di file o in memoria perché abbiamo diversi modi perché sostanzialmente abbiamo detto che abbiamo bisogno di 23 bit per avere 23 bit io ho bisogno visto che andiamo 8 per volta di almeno 3 byte ok i byte di solito non sono rappresentati in memoria da soli ma sono o singoli o doppi oppure a gruppi di 4 quindi un modo standard è di prendere delle parole di 32 bit e utilizzarne soltanto 23 per andare a codificare i nostri codepoint ovviamente qui abbiamo un grosso spreco ok tuttavia è possibile farlo e infatti esiste una rappresentazione che si chiama utf32 quindi a partire dal codepoint ho un modo di andarlo a rappresentare in termini di bit in memoria o su un file utf32 è quella più diretta nel senso che io prendo il codice lo scrivo in uno spazio più ampio ho 32 byte ne utilizzo 23 e li vado a rappresentare 23 bit sono sì in realtà sarebbero 21 non so se c'è qualche differenza di codifica ma se avete voglia di leggervi lo standard poi me lo dite di fatto la dichiarazione generale è che i bit utilizzati sono al più 23 è possibile che ci sia qualche bit in più per evitare ambiguità ovviamente abbiamo uno spreco enorme per cui un byte e più sono sprecati per cui esiste un'altra rappresentazione che si chiama UTF16 in cui sostanzialmente buona parte dei code point sono rappresentati su 16 bit da 0 a D7FF vedete che anche in questo caso non utilizziamo tutti i 16 bit ma ne abbiamo alcuni che mi servono per andare a codificare condizioni particolari ad esempio il fatto che il mio carattere non è codificato su 16 bit ma è codificato su 16 più 16 per cui tutti i code point oltre quelli che sono rappresentati sui 16 bit vengono rappresentati su più blocchi da 16 terzo tipo di codifica è quella che si chiama UTF8 ovvero uso come base non 32 non i 16 ma gli 8 bit e quindi tutti i caratteri che hanno dei code point che vanno da 0 a 7F vengono rappresentati con un unico byte il bit più alto quindi quello più significativo serve per andare a identificare i casi in cui non posso rappresentare il carattere su un unico byte ma ho bisogno di più carattere scusate di più byte e quindi un altro sotto insieme sarà rappresentato da due blocchi da 8 un altro sotto insieme ulteriore sarà rappresentato da tre blocchi da 8 ad esempio il carattere E accentato che ha come code point C8 non ci sta nel singolo byte nei singoli 8 bit per cui ha bisogno di due byte uno che ha come valore C3 e l'altro come valore A8 la caratteristica fondamentale di UTF8 è che i codici ASCII cioè il codice latini delle lettere maiuscole minuscole numeri e i segni di interfunzione principali sono rappresentati esattamente nello stesso modo quindi se io utilizzo soltanto le lettere dell'alfabeto latino più i segni normali la codifica UTF8 mi dà esattamente lo stesso risultato della codifica ASCII e quindi si dice che è trasparente ASCII transparent questo è un grosso vantaggio perché mi permette di ignorare con quale codifica sia stato creato un file e leggerlo tranquillamente come UTF8 o come ASCII o come anche altre codifiche che sostanzialmente sono ASCII transparent questo è il motivo per cui se voi andate a mettere la E accentata la U accentata o qualunque altra cosa il rischio è che non essendo più ASCII transparent se io non leggo il file sapendo qual è la codifica rischio di leggere qualcosa che è sbagliato quindi i caratteri più pesanti sì credo che siano tre byte potrei sbagliarmi ma non dovrebbero esserci blocchi da quattro byte però prendetelo con le pinze perché non non sono sicuro le lettere accentate sono tutte richiedono tutti due blocchi da otto in Java esiste il concetto di character set ok Unicode è la codifica standard che noi utilizziamo all'interno di di Java quindi quando andiamo una variabile di tipo scusate di tipo char questa variabile tendenzialmente è codificata all'interno della memoria con la codifica utf16 quindi i caratteri sono i singoli caratteri sono blocchi da 16 bit e nelle stringhe ogni carattere è tendenzialmente rappresentato da 16 bit eventualmente più blocchi da 16 se è un carattere che non sta nelle codifiche standard ok se però devo andare a interagire con un file ecco quel file io devo poterlo leggere o scrivere anche con altri tipi di codifiche che non siano necessariamente unicode per cui queste codifiche si chiamano in in Java char set ovvero gli insiemi di caratteri quelle che sono gestite in Java che hanno un supporto già predefinito sono ovviamente la codifica ASCII che è definita anche da uno standard ISO 646 la codifica ISO 8859 che è sostanzialmente la codifica utilizzata praticamente identica da sistema operativo Windows la codifica UTF 8 che è quella che abbiamo detto prima che è la codifica di default in Java ed è la codifica che è anche utilizzata in diversi altri sistemi operativi buona parte dei Linux e Mac le tre codifiche che vedete qui la ASCII l'88591 e l'UTF8 per il set di caratteri ASCII sono esattamente identiche per i caratteri che invece non sono ASCII le lettere accentate ad esempio i risultati sono diversi per cui l'88591 permette di rappresentare su 8 bit anche le lettere accentate mentre invece l'UTF8 ha bisogno di due blocchi da 8 bit quindi il risultato può essere decisamente diverso possiamo avere dei problemi perché il codepoint della E accentata abbiamo detto che è C8 e quindi richiede questi due byte la codifica 8859 invece interpreta questi due byte come due caratteri la con la sediglia sopra e l'umlaut quindi se scrivete una E accentata in un file utilizzando la codifica l'UTF8 scrivete questi due byte se leggete lo stesso file sbagliando e utilizzando la codifica 8859 1 ottenete questa coppia di caratteri viceversa viceversa la E accentata con l'8859 rappresentata dall'unico carattere dall'unico byte che ha come valore E8 in UTF8 E8 è un carattere non valido e quindi normalmente viene rappresentato da questo glifo che è il punto interrogativo quindi quando vedete questa coppia di caratteri strani o simili oppure il punto interrogativo sapete già che c'è stato un problema di codifica il file è stato scritto con una codifica e letto con un'altra ve l'ho fatto sull'AE accentata perché è una delle più comuni però sappiate che vale per buona parte delle lettere accentate questo è il motivo per cui vi stavo raccomandando prima di non utilizzare mai delle lettere accentate all'interno dei vostri programmi perché se il file lo scrivo io su sistema operativo Mac e lo leggete voi su un sistema operativo Windows ad esempio il rischio è che io abbia scritto un'AE accentata e voi ritroviate la accentata e l'umlaut seguito che ovviamente non sono caratteri validi come la definizione di un identificatore oppure viceversa se lo scrivete voi l'AE accentata e la leggo io mi ritrovo un carattere non valido quindi la raccomandazione per evitare questi problemi è di non utilizzare lettere accentate così evitiamo di dover fare attenzione al char set che utilizziamo per leggere o scrivere i file il motivo sì immagino che sia il motivo per cui se in C si scriveva l'AE accentata veniva scritto in maniera strana perché dipende da come è codificato e decodificato quindi in generale fate attenzione a quello e fate attenzione ne riparleremo quando parleremo di input output da file quando leggete o scrivete dei file perché il rischio è che se scrivete dei file di testo o li leggete non utilizzate la codifica corretta ok questo per quanto riguarda la codifica a questo punto due parole su le due classi principali string e string buffer string abbiamo detto che è immutabile mentre invece string buffer e la cugina string builder sono invece delle classi mutabili la classe che è pensata per fare buona parte delle operazioni sulle stringhe è per appunto la classe string quella principale quando io vado a mettere un qualche valore letterale tra doppi apici quello automaticamente viene convertito in una stringa e ho a disposizione ad esempio l'operatore più che mi permette di fare la concatenazione tra una stringa e un'altra stringa oppure qualunque altra cosa prima di fare la concatenazione qualunque altra cosa viene convertito in stringa in un modo che non sempre è corretto e poi viene concatenato ok abbiamo il metodo length che mi dà il numero di caratteri attenzione numero di caratteri non numero di byte per cui se io ho un carattere di qualche alfabeto strano inusuale che deve essere rappresentato su due blocchi da 16 bit quello conta come un carattere ok abbiamo già parlato del metodo equals che permette di fare il confronto fra i contenuti delle stringhe e non tra i riferimenti ok quindi in generale quando voi fate un uguale uguale tra stringhe nel 99% dei casi state sbagliando e quando dovete fare il confronto tra stringhe utilizzate equals alcuni metodi non ve li commento date un'occhiata e sappiate che c'è la documentazione online in cui andare a vedere esattamente come funzionano ok ci sono qualche esempio qui nelle slide ma non non mi soffermo qui su questi dettagli perché probabilmente li utilizzerete e ricordatevi che c'è sempre la documentazione online domanda per i char va bene l'uguale uguale sì per i char va bene l'uguale uguale perché sono dei tipi primitivi e quindi faccio il confronto tra i valori tra i charter che invece sono classi wrapper no un paio un paio di metodi statici value of che permette di convertire un tipo primitivo in una stringa ci sono tante varianti di value of per tutti i tipi primitivi quindi io posso prendere un intero un long un double un boolean e convertirli in stringa e poi c'è format format sostanzialmente cosa fa? si comporta esattamente come la printf in realtà si comporta come la sprintf ovvero stampo all'interno di una stringa una serie di valori formattati utilizzando una stringa di formattazione la stringa di formattazione è sostanzialmente quella della printf o della sprintf in cui abbiamo il percento eventualmente il numero dell'argomento se voglio andare a utilizzare lo stesso argomento più volte dei flag la larghezza minima eventuale precisione con il punto prima e il tipo di conversione i flag sono meno più meno per allineamento a sinistra più per inserire il segno zero per andare a mettere il padding di zero all'inizio ed eventualmente la tonda per indicare i numeri negativi tra parentesi la larghezza è un numero che mi dice quanto voglio largo come minimo il mio campo la precisione è un altro numero che mi dice quanti cifre decimali voglio e poi la conversione è la conversione standard io qui vi ho riepilogato soltanto alcune delle conversioni principali di nuovo se andate sulla documentazione della classe string nella documentazione ufficiale trovate tutti i dettagli più approfonditi di questi quindi b boolean s string d integer f decimale e di nuovo valore floating point con la relazione scientifica no il padding in questo caso è il padding con lo zero nel senso che se non metto nulla e ho la larghezza width più ampia del numero di caratteri necessari ci sono degli spazi se metto lo zero invece di avere degli spazi ho degli zeri davanti al numero string stringbuffer stringbuffer è identico a string salvo che non ha l'operatore più che permette di fare concatenazioni facili ovviamente può essere convertito in una stringa e viceversa ed è sostanzialmente mutabile quindi io posso andare a modificare il contenuto di uno stringbuffer cosa che invece con la stringa non posso quindi ogni operazione che io faccio su una stringa sostanzialmente mi crea un'altra stringa con il contenuto modificato di nuovo non vado a descrivervi tutti i metodi della classe stringbuffer avete la documentazione online i principali sono append per andare ad accodare una stringa insert per andare a inserire in una certa posizione una sottostringa spostando in avanti i caratteri che sono da quella posizione lì in avanti delete per andare a eliminare una porzione di stringa e reverse che sostanzialmente mi inverte l'ordine di caratteri tutti questi metodi restituiscono this ovvero lo stesso stringbuffer su cui viene applicato cosa vuol dire vuol dire che vi crea un'altra classe di esempio esempio string con il metadomain se io vado a definire uno stringbuffer sb uguale new stringbuffer inizio quindi questo è il valore iniziale del mio stringbuffer posso fare sb punto appende e poi punto appende un altro punto appende pezzo il risultato è questo inizio e poi un altro pezzo per concatenare più stringhe possiamo utilizzare append esattamente per lo stringbuffer per le stringhe sì teoricamente potete utilizzare il metodo concat ma non lo usa nessuno il metodo concat si utilizza il più più equivale a chiamare il metodo concat quindi se volesse ottenere la stessa cosa con una stringa string s è uguale a inizio e poi dico s più uguale a e poi più un altro in realtà non è esattamente la stessa cosa nel senso che qui io concateno il risultato di questi quindi se vogliamo essere più precisi ho esattamente lo stesso tipo di concatenazione facendo una cosa di questo tipo nel senso che vado a concatenare nello stesso ordine questo mi dà esattamente lo stesso risultato nel senso che mi costruisce una stringa sequenza di carattere che è esattamente la stessa con lo stesso ordine di concatenazione il risultato è ovviamente che qui crea un oggetto qui ne crea un altro qui ne crea un altro ancora e qui ne crea un altro ancora quindi ho creato quattro oggetti ovviamente posso andare a fare un ciclo che aggiunge nuovi pezzi ogni interazione ok la concatenazione funziona in qualunque contesto in termini di prestazioni ovviamente abbiamo delle grosse differenze ok tanto per darvi un'idea se io vado a prendere una stringa s e vado a eseguire un ciclo che a ogni iterazione mi concatena all'interno di s la rappresentazione stringa del numero e faccio la stessa cosa con uno string buffer in cui a ogni iterazione faccio un append del valore numerico tengo esattamente lo stesso risultato ok funzionalmente sono equivalenti il punto è che se faccio per dire 100.000 iterazioni questo ci impiega 2 millisecondi l'altro ce ne impiega 12 quindi quasi 10 volte tanto ok un ordine di grandezza per cui spesso per semplicità sì scusate 12 secondi ok tre ordini di grandezza giusto quindi 12.000 millisecondi contro 2 millisecondi stavo semplificando un po' troppo il che vuol dire che circa tra i 1.000 e i 10.000 volte più lento il che vuol dire che molto spesso per semplicità io vado a fare più uguale o fare più tra stringhe se però quel codice ragionevolmente dovrà essere eseguito tantissime volte ecco che l'utilizzo di uno string buffer sicuramente è molto più efficiente in generale non preoccupatevi di problemi di efficienza all'inizio ok se siete più comodi ad utilizzare le stringhe fate utilizzate tranquillamente il più o il più uguale sappiate che se avete problemi di prestazioni ecco l'utilizzo di string versus stringbuffer può essere un'ottimizzazione relativamente facile da fare e che vi permette di guadagnare abbastanza per cui se andate a scrivere codice che viene eseguito in un server tantissime volte ecco magari evitate di utilizzare le stringhe nella vostra pratica di programmazione quotidiana non vi preoccupate ok attenzione qui la grossa differenza è su 100.000 iterazioni e parliamo di una decina di secondi se il vostro programma deve fare 100.000 iterazioni in un anno vuol dire che non cambia assolutamente nulla ma neanche in un giorno ok se deve fare 100.000 iterazioni al minuto ecco che a questo punto 12 secondi iniziano già a essere un qualcosa di molto pesante è un 20% ok quindi non preoccupatevi molto almeno negli esercizi che fate per questo corso fateci un pensierino se sapete che scrivete il codice che potenzialmente potrebbe essere eseguito tante volte allora effettivamente usare uno stream buffer può cambiare molto le prestazioni piccolo appunto su string builder allora string builder è esattamente identico a string buffer ok stessi metodi stesso funzionamento eccetera l'unica differenza è che poi ci torniamo quando verso la fine del corso parleremo di thread se io ho due thread di esecuzione che contemporaneamente utilizzano lo stesso string buffer non ci sono problemi e se uno fa un add e contemporaneamente un altro fa un add le due operazioni vengono fatte una dopo l'altra lo stream builder invece se viene utilizzato da più thread contemporanei non è detto che dia dei risultati corretti quindi se ho due thread che contemporaneamente vanno a pasticciare nei caratteri dello stream builder potrei avere un risultato impredicibile o avere addirittura un errore semplicemente perché lo stream buffer fa alcuni controlli in più quindi sincronizza l'accesso ai dati in modo da garantire che i thread che sia che più thread possono utilizzarlo in maniera sicura eliminare questi controlli ci dà un 25% di miglioramento delle prestazioni possiamo tradurre thread con processo la risposta breve è no nel senso che i thread sono diversi dai processi i thread sono molto più fini i thread sono più flussi o fili di esecuzione che si trovano all'interno dello stesso processo questo problema non si pone se io ho più processi perché i processi hanno spazi di memoria separati i thread invece è come se fossero dei processi leggeri chiamiamoli così che però hanno lo stesso spazio di memoria e quindi a quel punto sì che posso avere dei conflitti torneremo a parlare di thread comunque verso la fine del corso e vedremo un po' più nel dettaglio qualche aspetto in più e come possiamo utilizzarli quindi se non abbiamo problemi di più thread che operano sullo stesso stream buffer allora possiamo sostituirlo con uno stream builder guadagnando un 25% di prestazioni ok attenzione 25% in meno l'altro era mille volte in più ok quindi già passare da string a stream builder a stream buffer ci risolve probabilmente buona parte dei problemi se vogliamo andare a limare un ulteriore 25% allora questo potrebbe essere utilizzato ok è ovvio che se io sono sicuro che non sta arrivando nessuna macchina attraverso anche col rosso faccio prima non aspetto che arrivi che finisca il ciclo eccetera però devo essere sicuro che non arrivino macchine perché se arrivano macchine e ho utilizzato lo stream builder ecco mi stirano quindi sta al programmatore sapere se è possibile utilizzare la versione più leggera e più performante che però fa meno controlli abbiamo parlato di metodi statici un attimo insomma un attimo un'oretta fa e c'era stata una domanda sullo stream pooling ecco ci torniamo un attimo velocemente ok è nella nella lezione che avevo pubblicato ma vorrei ritornarci perché è un esempio di applicazione dei metodi di attributi statici abbiamo visto che quando io vado a concatenare delle stringhe qualunque operazione è falsa sulle stringhe viene creato un nuovo oggetto quindi c'è un grosso spreco diciamo così per questo motivo la classe stringa ha al proprio interno un pool una collezione di string già preallocate per cui è possibile andare a utilizzare queste stringhe invece di creare le nuove questo meccanismo di andare a utilizzare una stringa già esistente invece di creare una nuova però non è fatto in automatico ok perché perché potenzialmente le stringhe sono tantissime e la ricerca della stringa corrispondente a quella che io voglio memorizzare potrebbe essere molto onerosa in termini di tempo per fare questa operazione devo andare a utilizzare il metodo intern ok come funziona sostanzialmente intern immaginiamo di avere un array di caratteri che è il punto di partenza per andare a costruire una stringa vado a costruire una stringa che si basa su questo array di caratteri ne vado a costruire un'altra essendo due new questo mi crea sostanzialmente due oggetti distinti e poi vado a fare un'operazione di intern sulla stringa 1 e sulla stringa 2 le due stringhe sono esattamente identiche e quindi ragionevolmente alla fine dopo questa operazione di internalizzazione i 1 e i 2 dovranno essere la stessa ok e voglio evitare i duplicati per l'appunto quindi cosa avviene ho il mio string pool l'insieme di stringhe predefinite inizialmente vuoto nel momento in cui vado a creare una prima stringa la creo nella memoria dinamica creo la seconda stringa anch'essa nella memoria dinamica dopodiché vado a fare l'operazione di intern e quindi vado a prendere s1 punto intern e che cosa faccio intern va a vedere se nel string pool esiste una stringa uguale a quella che sto cercando di internalizzare se non c'è memorizzo dentro il pool un riferimento a quella stringa attenzione non è che copia la stringa il pool è un insieme di riferimenti che puntano alle stringhe che vengono messe dentro quindi scrivendo i1 uguale s1 punto intern che cosa faccio aggiungo quella stringa lì dentro il mio pool e restituisco tra l'appunto s1 quindi il pool conterrà un riferimento a s1 e anche i1 conterrà un riferimento esattamente alla stessa stringa se una stringa non dovesse essere più utilizzata il pool non mantiene nessun riferimento no il pool in realtà mantiene riferimento anche se la stringa non è più utilizzata perché sono stringhe che ragionevolmente mi immagino possono essere utilizzate in futuro quindi a questo punto se io faccio i2 i2 punto intern cosa faccio intern scopre che c'è già una stringa identica con la stessa sequenza di caratteri e allora mi restituisce quel valore lì e quindi i1 e i2 quindi dopo l'internalizzazione puntano alla stessa stringa e qual è il vantaggio? il vantaggio è che a questo punto posso buttare via s1 e s2 utilizzare i1 e i2 e puntano sostanzialmente alla stessa cosa questo meccanismo di internalizzazione viene effettuato automaticamente dal compilatore quando nel programma vado a mettere delle stringhe costanti quindi dei letterali con i doppi apici quindi quando io metto s1 uguale ai quindi tra virgolette cosa succede? il compilatore crea una nuova stringa in cui passa un array di caratteri che sono quelli che stanno qui dentro e poi chiama intern in modo da memorizzare dentro s1 sostanzialmente quella l'unico riferimento e se ho un'altra volta la stessa stringa il risultato sarà esattamente lo stesso oggetto questo sostanzialmente mi risparmia le duplicazioni degli oggetti ok allora a questo punto diciamo che la nostra breve panoramica sulle stringhe è finita quindi diciamo che sapete più o meno tutto quello che c'è da sapere intern è un dettaglio aggiuntivo lo potete riprodurre su Eclipse potete scrivere esattamente questo codice su Eclipse il punto è che io non riesco a farvi vedere cosa fa il compilatore nel senso che è nascosto quindi se ho più volte la stessa stringa il risultato è che i due oggetti saranno esattamente identici quindi quello che vi dicevo un attimo fa adesso scusate chiudo questo così andiamo su Eclipse e vi faccio vedere l'esempio quello che vi dicevo un attimo fa ovvero attenzione che l'uguale uguale tra stringhe di solito non funziona in realtà string s1 uguale lo string s2 uguale lo essendo costanti dei letterali costanti automaticamente sono internalizzati quindi in questo caso specifico se io vado a confrontare s1 ed s2 che cosa ottengo? ottengo che i due puntatori i due riferimenti sono esattamente identici il compilatore li fa puntare esattamente allo stesso oggetto ok? quindi ho un true attenzione questo funziona se s1 e s2 sono stati inizializzati con delle stringhe letterali se io s1 l'ho letto da tastiera o da dalla finestrella di j option pane ecco a questo punto le due stringhe non sono più la stessa hanno gli stessi contenuti ma non sono più la stessa motivo per cui l'unica soluzione che generalmente funziona e mi dà dei risultati consistenti se io voglio andare a confrontare i contenuti delle stringhe che è quello che normalmente voglio fare è utilizzare l'equals se una concatenazione di stringhe allora tutte le volte che io le le doppie stringhe le doppie appici quindi un letterale quello automaticamente è internalizzato se io concateno due letterali il risultato non è internalizzato quindi se lo voglio devo farlo io esplicitamente come vi dicevo prima l'internalizzazione funziona viene messa in atto dal compilatore quando ho delle costanti ma altrimenti durante il funzionamento normale non viene messa in atto per motivi sostanzialmente di efficienza perché mi richiederebbe troppo tempo quindi se lo facessi su tutte le stringhe di un programma potrei dover spendere molti millisecondi o molti secondi a trovare a cercare la stringa e eventualmente utilizzare quella ovviamente questo non è non è accettabile ok a questo punto due parole su le nested classes le avevamo viste in un qualche esempio all'inizio qualcuno mi aveva chiesto ma è possibile di creare una classe dentro un'altra sì in realtà è possibile farlo in tanti modi ci sono quattro tipi di classi annidate quelle propriamente dette annidate o static quando io dichiaro una classe static all'interno di una classe esterna sostanzialmente cosa sto facendo sto andando a dire che il contesto in cui questa classe è definita è quella più esterna e quindi quello potrebbe essere un metodo per andare a ridurre la visibilità di una classe ulteriormente rispetto a un package ad esempio tornando al nostro codice se ricordate avevamo parlato delle liste la lista di interi con una classe nodo dichiarata esternamente io posso anche andare a definire una classe lista anni data diciamo così in cui la classe nodo è private static class nodo int valore nodo prossimo e poi gli altri metodi sono sostanzialmente analoghi a quelli dell'altra classe qual è la differenza è che la classe nodo sarà visibile soltanto all'interno della classe lista di data il principio di incapsolamento di nuovo esteso la lista la classe nodo ragionevolmente ha accesso agli attributi che sono della classe lista anni data ok perché statiche perché sostanzialmente la classe dichiarata così è una classe che è annidata dentro la classe e non ha nessun legame con gli oggetti se avessimo avuto il modificatore public invece di private sarebbe stata visibile dall'esterno per vedere dall'esterno il suo nome a questo punto non è nodo ma bensì lista annidata punto nodo e ci sono classi annidate e io posso accedere a loro mettendo il loro nome completo il loro nome completo è il nome del package punto nome della classe esterna punto nome della classe interna ok e questo è quello che più si avvicina a dichiarare una classe dentro semplicemente per cambiare il contesto di definizione ok poi non appartiene a nessun oggetto esattamente poi abbiamo le classi quelle cosiddette interne dove non metto static se non metto static vuol dire che se la metto così questa è una classe non semplicemente annidata ma classe interna cosa vuol dire vuol dire che ogni istanza di nodo sarà legata all'istanza di la classe esterna lista annidata che l'ha creata quindi il nodo sarà un pezzettino un'estensione dell'oggetto lista annidata che l'ha creata questo vuol dire che l'oggetto nodo interno è in grado di vedere anche tutti gli attributi dell'oggetto che l'ha creata questo vuol dire che ad esempio potrei andare a mettere un public void add no scusate no scusate qui ho dimenticato di mettere un private testa scusate private nodo testa e qui vado a mettere il metodo add che va semplicemente a fare un new nodo di scusate ho dimenticato il valore int valore new nodo di valore questo vuol dire che qui io posso andare a mettere un nodo int valore e questo costruttore è legato all'oggetto che l'ha creata e quindi può vedere anche visto che è comunque dentro la classe l'attributo testa quindi posso andare a dire dis.valore uguale valore prox uguale testa e testa uguale a dis la classe nodo interna vede gli attributi dell'oggetto che l'ha creata e quindi la creazione di un nodo può essere utilizzata per andare semplicemente a sfruttare dentro il costruttore di questo nodo il fatto che questo oggetto vede l'attributo testa dell'oggetto listanidata che l'ha creato ok prox è il puntatore al prossimo elemento della lista attenzione non posso scrivere listanidata.nodo.prox perché prox non è un metodo statico non è un attributo statico ok e quindi qui se voglio accedere al primo o al secondo elemento posso fare testa punto prox punto prox ok domanda anche con gli constati che la classe interna era conoscenza degli attributi di quella esterna sì ma il punto è che di quale non essendo legata ad un oggetto particolare a quale valore di testa a quale attributo testa di quale classe di quale oggetto avrebbe fatto riferimento e qui testa è un attributo della classe listanidata quindi devo sapere a quale oggetto appartiene l'attributo testa se questo fosse stato static non avrei saputo a quale oggetto fare riferimento e quindi o passo qui il parametro cioè il contenitore e allora lo vedo ma altrimenti non so quale ho la visibilità ma per poter accedere a testa ho bisogno di un riferimento all'oggetto listanidata questo qui è il costruttore per l'appunto della classe nodo che è chiamato da questa new qua sotto ok quindi le classi interne quindi senza static c'è c'è questo legame forte tra l'oggetto creato della classe interna e l'oggetto della classe esterna che l'ha creato per cui l'oggetto della classe interna vede gli attributi dell'oggetto della classe che l'ha creato esterna che l'ha creato this in questo caso è l'oggetto che sto creando che sto costruendo in questo momento in generale l'utilizzo di this esplicitamente come valore che passo da un costruttore è un qualcosa a cui far attenzione perché l'oggetto non è ancora finito però in questo caso è l'ultima istruzione quindi passo riferimento a me stesso nodo quindi a questo punto il mio valore di nodo è il valore passato come parametro questo è quello che sto dicendo con quella prima riga il mio elemento aspetta il nodo che mi segue è il nodo attualmente in testa potrebbe anche essere null inizialmente quindi vuol dire che non c'è nessun elemento che mi segue ora il nodo in testa sono io ovvero this me stesso per cui in generale l'alternativa tra le classi interne e le classi semplicemente annidate io utilizzo una classe interna quando mi fa comodo andare a utilizzare questa visibilità dell'oggetto interno verso l'oggetto contenitore altrimenti se non ho questa necessità utilizzo una classe annidata statica che evita questo collegamento addizionale ed è completamente scollegata quindi non ha vincoli tenete presente che se ho una classe interna la classe interna io la posso creare esclusivamente qui la devo creare da un oggetto della classe contenitore quindi se io la mettessi anche public questa classe nodo non la posso creare al di fuori della classe annidata mentre invece se metto una classe public static class nodo chiamolo s e qui dentro non sto a ripetere tutto ma un oggetto di questa classe lo posso creare dove voglio ok semplicemente è una classe definita dentro ma la posso creare ovunque mentre invece la classe nodo può essere creata esclusivamente da un metodo della classe esterna contenitore commento quindi this a seconda di dove ci troviamo si riferisce ad un oggetto diverso certo this qui dentro si riferisce all'oggetto nodo this dentro questo metodo si riferisce all'oggetto lista di data ad esempio volendo concatenare le chiamate al metodo add quindi volendo scrivere qualcosa del tipo ve lo metto qua new class esempio lista annidata in realtà la lista non è annidata è annidata la classe nodo che si trova al suo interno allora io posso andare a dichiarare un lista annidata l uguale new lista annidata aperta chiusa tondo ovviamente devo importarlo perché si trova nel package di polito quello quello che vi dicevo prima è che io posso andare a mettere qui un lista annidata punto nodo s uguale ns uguale new list annidata nodo s questo è una classe interna statica quello che non posso fare è invece andare a mettere n e quindi andare a mettere un nodo sostanzialmente perché mi dice il costruttore non è in realtà qua so anche metterci 4 quindi un numero scusate avevo dimenticato il parametro l'errore in questo caso è il costruttore lista annidata non è visibile posso anche metterlo in realtà è pubblico non è visibile sostanzialmente perché lo metto pubblico ok non c'è un'istanza di una classe enclosing esterna racchiudente a cui agganciare il nuovo oggetto di tipo nodo ok quindi gli oggetti di classe interne devono essere creati da oggetti delle classi esterne enclosing differenza fondamentale tra i due ok e questo credo abbia risposto al un paio di commenti ok quindi questo lo posso fare quello che invece vi stavo dicendo un attimo prima immaginiamo di voler andare a scrivere l.add 3.add 4 eccetera quello che si chiama method chaining ovvero concatenazione di chiamate a metodo allora io questo lo posso fare soltanto se add mi restituisce un riferimento a un oggetto su cui io posso chiamare add quindi questo lo posso fare soltanto se il metodo add mi restituisce un oggetto a un riferimento a un oggetto di classe lista annidata return this ovvero il metodo add viene chiamato sull'oggetto lista annidata aggiungo il nodo e poi restituisco di nuovo me stesso a questo punto con questa con questo risultato qui io posso andare a prendere il risultato di l.add che è di nuovo un riferimento a l e quindi posso chiamare add posso chiamare di nuovo add perché add tutte le volte mi restituisce un riferimento all'oggetto su cui è stato chiamato eccetera quindi tornando alla lista annidata qui this è uguale oggetto lista su cui è stato chiamato il metodo add ok quindi this qui è l'oggetto lista this qui è l'oggetto nodo ok dentro ogni metodo appena entro dentro il metodo il riferimento this assume il valore di riferimento all'oggetto su cui è stato chiamato il metodo ok domanda il metodo add dovremmo gestire anche l'aggiornamento del prossimo nel metodo add non gestisco l'aggiornamento del prossimo perché lo fa già il nodo che lo va a prendere dall'oggetto lista che lo contiene ok attenzione non vi sto dicendo che questo è l'uso ideale delle classi interne ok perché è ovvio che la lista annidata e la classe nodo hanno un accoppiamento fortissimo ok la classe lista annidata deve sapere che la classe nodo fa tutto la classe nodo deve conoscere tutti i dettagli della classe lista annidata e andarla a modificare ok è un esempio di quello che è possibile fare andando a sfruttare al massimo la visibilità e il legame che c'è tra oggetto esterno e oggetto interno che è il risultato della dell'uso scusate che ho qua dell'uso della di una classe interna in generale uso delle classi interne quando mi serve questo legame magari non sfruttato così all'estremo dove un oggetto interno mio che modifica i miei attributi magari in maniera un pochettino più più pulita dove qui magari vado a chiamare dei metodi privati magari della classe però evitando pasticci mentre invece vado a utilizzare le classi annidate statiche quando questo legame non mi serve questo sostanzialmente mi svincola l'uso di questa classe nodo dall'avere per forza un oggetto della classe lista che me lo possa creare ok allora luca diceva che non si può creare un oggetto dal di fuori perché per l'appunto sarebbe avrei bisogno di un riferimento a un oggetto della classe annidata per poterlo creare quindi è quello che vi stavo dicendo qui ovvero non posso scrivere questo perché qui questa cosa qua dovrebbe permettere dovrei scrivere qualcosa del tipo non new perché non ho un oggetto di riferimento dovrei fare un l.new cioè un new appoggiato a l oppure un new di l.nodo ok cosa che ovviamente non posso scrivere però concettualmente dovrei riuscire a fare una cosa di questo tipo domanda più in generale al di fuori dell'esempio che io vi ho fatto vedere qual è la visibilità più ragionevole per una per la classe nodo allora in questo caso siamo nella lista annidata la classe nodo è utilizzata esclusivamente all'interno della lista annidata quindi come visibilità io direi che la visibilità ideale è privata ok è un qualcosa di interno alla classe lista annidata e non voglio che nessun altro all'esterno vada a pasticciare tra l'altro essendo una classe interna nessuno la può andare a creare e quindi in ogni caso non la potrebbero utilizzare quindi tanto vale di io nascondo questo dettaglio e evito di andare a complicare la vita chi mi vede questa classe dall'esterno vede una classe nodo e non sa bene di cosa si tratti quindi tendenzialmente la regola è nascondere il più possibile e mostrare soltanto il minimo indispensabile quindi la classe interna comunque deve essere creata a partire da un oggetto della classe che lo cantiene e quindi sulle classi interne di solito non metto una visibilità che non sia privata di solito poi sicuramente può capitare un caso molto particolare in cui sia ragionevole averla da questa visibilità però la linea guida in generale è questa ma in generale nascondete il più possibile e mostrate e mostrate solo l'essenziale ok se pensate a un'auto avete tre pedali due se avete il cambio automatico un volante e una leppa del cambio ok non avete un cavetto che permette di andare a operare su tutte le valvole di tutti i cilindri della vostra macchina o un qualcosa che aumenta e diminuisce la portata di carburante a ogni singolo cilindro in linea di principio sì all'interno tutto funziona in qualche modo analogo a questo ma a voi non interessa vedere quello voi volete avere semplicemente la visione semplificata esterna quello che vi consente di poter fare il vostro compito di guidatori dell'auto domanda una classe statica accesso ai metodi della classe ospite sì ovviamente se io qui avessi un metodo diciamo void m che riceve come riferimento lista anni data l qui potrei andare a dire nodo n uguale l punto testa sto scrivendo una cosa senza senso ma giusto per farvi vedere che qui dentro avendo un riferimento all'oggetto della classe esterna ho la visibilità ok ora poi ci sono un'altra ventina di casi possibili di combinazioni il mio consiglio è createvi la vostra classe lista con nodi interni annidati eccetera e fate tutte le prove mettendo dei metodi magari di prova magari inutili come questo e vedete esattamente che cosa avete come visibilità ok ovviamente non posso rispondere a tutte le possibili casistiche altrimenti finiamo la lezione domani l'idea è quando avete dei dubbi molto specifici il mio consiglio è provate a farvi un piccolo esempio e provate a vedere cosa vi dice il compilatore e se funziona questo è il modo più diretto di rispondere a buona parte dei dubbi delle domande che avete e soprattutto vi chiede di andare a formulare la domanda in maniera precisa perché il codice lo dovete scrivere ok quindi per metà delle domande che vi possono venire in mente la risposta è provate a scrivere un esempio e vedete voi che cosa vi dice il compilatore o cosa succede eseguendo il codice ci sono altri tipi di classi annidate di cui io non parlo adesso perché ci ritorneremo quando vedremo anche l'ereditarietà perché sono legate all'interfaccia le implementazioni e quindi dobbiamo conoscere un po' più di come funziona l'ereditarietà prima di capire come funzionano gli altri tipi di classi annidate tra cui ad esempio quelle che si chiamano classi anonime direi che con questo abbiamo concluso la lezione di oggi vi pubblico un'altra lezione allora potete guardare la lezione che avevo pubblicato per oggi in cui in realtà però ho riassunto abbastanza c'è qualche dettaglio in più vi pubblico domani un'altra lezione relativa alla libreria JUnit e così lunedì iniziamo a capire come funzionano i test e in modo che appena riceverete i test dei vostri laboratori riuscite a capire come funzionano e come interpretarli ok ovviamente appena chiusa la lezione faccio il commit e quindi potete andare a vedere il codice nel dettaglio eventualmente provarlo se avete già fatto l'import di questo progetto fate un update e automaticamente vi ritrovate il nuovo codice mi raccomando piuttosto copiate queste classi in un vostro progetto separato se volete pasticciarle perché se le modificate quando fate un update vi ritrovate un conflitto ok di conflitti parleremo tra due mesi e quindi o aspettate due mesi per risolverli oppure fate in questo modo in modo da evitarli direi che è arrivata l'ora di pranzo buon appetito a tutti e buon pomeriggio noi ci rivediamo la settimana prossima e buon appetito